Si è svolta questa mattina nella sede della Confesercenti di Via Mercantini a Varese la conferenza stampa di presentazione di Italia Confidi, il nuovo strumento di credito al servizio delle imprese che raggruppa tutte le realtà di Lombardia, Piemonte, Veneto e Toscana. Da anni, tramite la Confesercenti, le piccole e medie imprese possono usufruire di un servizio efficiente, importante e strategico come il credito alle imprese. La Confesercenti da sempre è impegnata nella difesa delle PMI, nel rilancio del turismo e del commercio nella provincia di Varese, promuovendo di volta in volta iniziative in questa direzione.